Da qui al 2032, quali visioni potremmo avere per la nostra regione? È chiaro che ognuno di noi può sognare, può vedere naturalmente una prospettiva per l'Umbria in un determinato modo. Poi bisogna comunque ritornare con i piedi a terra e cominciare a fare le valutazioni più corrette e più importanti. Allora, credo che innanzitutto noi dovremo migliorare la competitività e l'attrattività. L'attrattività non intesa solo in senso turistico e dovremo avere un'innovazione della regione, dovremo spingere su questo che non sia soltanto tecnologica, ma possa essere anche un'innovazione di tipo sociale e culturale, dove la qualità della vita si mantenga sempre a livelli molto alti e facendo diventare la nostra regione la regione ideale dove poter vivere e fare impresa. E questo chiaramente diventerebbe un modello fortemente innovativo e fortemente attrattivo. Noi dobbiamo, appunto, è chiaro che nel libro dei sogni la regione ideale per noi potrebbe essere, se pensiamo allo sviluppo economico, all'infrastrutturazione, al livello degli stipendi, la regione modello potrebbe essere la Lombardia, ma non siamo la Lombardia, non dico purtroppo, perché poi ognuno naturalmente deve avere il suo metro di misurazione di quello che è il valore della qualità della vita che uno può ottenere. Per cui io credo che se noi dovessimo scegliere tra l'azione attraverso un software o attraverso l'hardware, per l'Umbria sceglierei sicuramente il software. Cioè quello che è stata la dimensione e l'elemento critico, perché per molti anni si è detto che la regione Umbria non aveva le grandi imprese, aveva poche e medie imprese, e quindi il sintomo di debolezza fosse quello di avere micro e piccole imprese in prevalenza e qualche media impresa. Ecco, io anche questo, se è vero quello che abbiamo detto prima dell'innovazione tecnologica, sociale e culturale, forse potrebbe essere anche questo un asset di positività. E anche qui provo a comprendere meglio questa situazione. Molte volte sostengo, anche in altri contesti, che l'imprenditore della grandissima impresa, che spesso e volentieri non c'è un elemento di riferimento, ma è una società, quindi formata da più soggetti, da capitali, che spesso e volentieri sono in mano a banche, a fondi. Allora possono avere sicuramente un cervello, un'operatività sul territorio, ma non hanno cuore. Mentre l'imprenditore Umbro, l'imprenditore di un'impresa più piccola, ha sicuramente cuore e cervello nella nostra regione. Perché dico questo? Perché in molti casi noi abbiamo avuto aree dove ci sono state grandi imprese, potrei parlare del comprensorio dello Spoletino, pensando a tutto quello che era il settore cementiero, il settore della ceramica, imprese che sono sparite e chiaramente ha pagato duramente quel territorio, questa situazione. Ma l'area Ternanac ha avuto degli up and down, dove ci sono stati momenti estremamente brillanti e altri momenti di forte debolezza. L'area gualdese-fabrianese, diciamo, al confine tra Umbria e Marche, dove la caduta di una grande impresa ha portato a problemi veramente elevati. Ecco, con la micro e la piccola impresa sicuramente certi sistemi di stipendi, certi sistemi di economie sono sicuramente ridotte, ma ci danno una qualità e una possibilità, flessibilità, dove si può agire con estrema rapidità. Tornando ai nostri settori, quindi quando parliamo di aumento di produttività e attrattività, io credo che noi dobbiamo rimuovere alcuni limiti che sono per la nostra regione. E sicuramente uno dei temi principali è quello dell'infrastrutturazione, perché l'infrastrutturazione direi che è notevolmente debole. Ma qua riporto un esempio, perché noi ci orientiamo sempre verso il discorso della gomma, della rotaia e dell'aria. Ecco, su questo tema devo dire che il trasporto internazionale viaggia per circa il 18-20% attraverso mare. Noi abbiamo dei collegamenti che possono essere solo su gomma per arrivare anche alla cività vecchia, con costi nettamente superiori. Poi abbiamo il livello di digitalizzazione delle imprese, su quale dobbiamo crescere, anche se c'è da dire che l'Umbria è al di sotto della media regionale nel sistema d'insieme, ma se prendiamo nel senso stretto l'industria e alcuni settori del commercio, in particolar modo nella provincia di Perugia, siamo a livello nazionale. L'altro tema di debolezza è rappresentato dalla ricerca e sviluppo, che sicuramente l'investimento da parte dei nostri imprenditori è sicuramente più basso. L'altro tema è quello che ci sentiamo dire molto spesso di molti giovani laureati che abbandonano la nostra regione per recarsi a lavorare in Italia, in altre regioni italiane o addirittura all'estero, cambiando addirittura anche la propria residenza. Il limite qual è? Il limite che viene paventato è quello dei bassi stipendi, della scarsità di richiesta da parte delle nostre imprese e su questo sicuramente dovremo lavorare e quindi in un accordo, quantomeno che poi verrà formalizzato, quello che sarà tra regione, Camera di commercio, sperando una partecipazione dell'università, delle fondazioni, delle casse di risparmio e chiaramente del mondo imprenditoriale, si possa trovare un modello per rendere più attrattiva la nostra regione e far sì che i giovani rimangano all'interno della regione stessa, trovando un giusto compenso, un equo compenso e una equa professionalità. E quindi qui dovranno crescere chiaramente anche le imprese, in maniera tale che l'impresa possa impegnarsi a chiedere determinati profili e l'università formare questi profili, perché se poi c'è sempre la listonia tra le persone formate e quello che richiede il mercato, chiaramente è tempo perso. Ma appunto sull'asset che noi abbiamo, sulla positività, noi abbiamo la regione Umbria, c'ha il 32% di superistruiti, quando la media nazionale è il 25%, qui la parte del leone la fanno le nostre donne. E allora su questo, questo è un asset che noi dovremmo poter sfruttare. E le altre negatività quali sono? Il costo del denaro troppo elevato, sia per liquidità, sia per investimenti, e qui dobbiamo fare veramente battaglia perché questo possa ritornare su quello che sono le medie nazionali, e gli altri temi sui quali dobbiamo trovare assoluto riscontro è quello di un servizio di infrastrutturazione migliorativo. Io non pretendo, voglio dire, che oggi l'Umbria possa essere stravolta da nuove infrastrutture ferroviarie, stranali o quel che sia, ma ci devono permettere di poter raggiungere con facilità i porti di civiltà vecchia Ancona, sia su gomma, sia su rotaia. E c'è prevista nel PNRR questa trasversale che collega Roma con Ancona e questo diventa estremamente importante. L'altro tema, noi abbiamo una situazione demografica veramente compressa. Intanto abbiamo pochissimi nati, ma accanto ai pochissimi nati è una delle regioni più longeve a livello nazionale. Se noi facciamo un rapporto tra i giovani, tra gli 0 e i 14 anni e gli over 65, il rapporto Umbro è 2,17. Cioè ogni neonato ci sono 2,17 persone oltre 65 anni. Il dato nazionale è 1,83. Allora, la longevità sicuramente è un valore aggiunto per la regione, quindi vuol dire che c'è una qualità della vita che è diversa rispetto ad altri territori e una salubrità dei territori che dobbiamo cercare di vendere per cercare di renderla attrattiva. Ma dobbiamo anche fare in modo che i giovani possano avere di nuovo figli, perché oggi i figli non si possono sempre e solo programmare in funzione del reddito della famiglia o del tempo libero. Allora, quando noi riparliamo e siamo un modello anche questo virtuoso di rigenerazione urbana, la rigenerazione urbana non è solo recuperare gli immobili nuovi o vecchi che siano, ma diventa anche una qualità della vita, un'agevolazione per le giovani coppie, perché possano avere affitti agevolati, servizi i migliori possibili per quello che riguarda i servizi di quartiere, diciamo degli esercizi commerciali, ma avere gli asili, avere i mezzi di trasporto, avere parcheggio e quanto altro. Quindi l'Umbria è una sfida che deve affrontare in piena disponibilità e in piena sinergia e dobbiamo fare, lo ripeto forse troppo spesso, dobbiamo fare sistema tra tutte le componenti della regione Umbria, perché in una piccola regione come la nostra, con una popolazione molto bassa, siamo infatti fortemente attrattivi e anche tutte le campagne promozionali, in questo caso nel turismo, ma deve essere non solo nel turismo, perché noi dobbiamo essere attrattivi anche per poter fare impresa e fare un'impresa green e orientarci sempre più verso un modello che possa veramente essere la destinazione ideale per vivere e fare impresa.